Salve a tutti ragazzi, in questo momento vi starete chiedendo che è successo a Von Arcadius e alla sua voce angelica, che sarà una crisi ormonale o una gravissima laringite. In realtà, se io non sono Von Arcadius, mi presento, datemi un minuto per presentarmi, io sono Gneisenau, forse qualcuno mi conoscerà già, perché tempo addietro, senza pretese, ovviamente ho avuto pochissimi fedeli, senza grandi pretese, ho fatto qualche let's play in leggendario. E comunque, questo è il passato, perché il passato è anche il mio vecchio nome. Adesso io sono stato ribattezzato dal nostro pontefice Arcadius, il Mastromodaio. Diciamo che la mia carriera, se così si può definire, da youtuber, era in pausa. Ho deciso di rispolverare un po' e darmi da fare quando anche Arcadius ha aperto il suo canale e chiacchierando un po' ho deciso di fare un po' una collaborazione e portare qualche contenuto extra, giusto per coprire qualche buco nella comunità italiana. Di preciso, da buon Mastromodaio, volevo partire con un video in cui avrei mostrato qualche mod, in realtà l'avevo anche già fatto, l'intenzione è di fare anche dei video in cui inserirò quelle che secondo me sono le mod più utili, più divertenti per vari aspetti del gioco. Avevo già fatto un video, come vi ho detto, solo che ho usato il programma sbagliato, poi è venuto di una qualità pessima e ho deciso di non postarlo. Se non che oggi, il giorno 11 settembre, uscirà il DLC e quindi anziché postare un video sulle mod che non potrebbe essere utile nell'immediato perché per qualche giorno le mod saranno bloccate, ho deciso di fare un altro tipo di video che era già nei miei progetti, cioè inserire dei piccoli trick che possono rendere la vita più facile durante le vostre campagne. Perché poi, quello che avrei intenzione di fare è fare, e potremo partire anche stasera stessa con le nuove fazioni, e di fare delle mini guide, diciamo, sugli start delle varie fazioni leggendarie. Veniamo al dunque. Oggi ho deciso di portare uno dei trucchetti, diciamo, dei miei preferiti, e che più si sono rivelati utili da sfruttare durante tutta la campagna. Ora, io a posteriori ho visto che questa tecnica l'ha utilizzata, l'ha utilizzata, credo sia molto simile, anche Zerkovich. Ovviamente la mia non è la pretesa di inventarmi le tecniche, ognuno giocherà, chissà quanti, giocando per i fatti d'oro, se la sono scoperta. Io me la sono scoperta da sola, e l'intento di questo video non è rivendicare assolutamente la paternità, diciamo, di questa tattica, ma semplicemente esporla a chi non ci ha mai pensato. Perché poi si rivela molto utile, soprattutto in vari campi nella campagna. Entriamo nel dettaglio. Il nome che gli ho dato per battezzarla oggi è la tattica della rana pescatrice. Voi sapete che questo pesce utilizza una specie di esca finta, che è una protuberanza del suo stesso corpo, per attirare i piccoli pescetti che vorrebbero mangiarsela, ma dietro questa esca si nascondono ben mimetizzate le fauci dentose e fameliche del pesce rana. Questa tattica, infatti, l'ho, diciamo, scoperta e sperimentata durante la mia prima campagna con Kazrak il monocolo, che all'epoca era per Warhammer 1, qua vedete che abbiamo anche il simpatico Clan Sky, ma non cambia niente per l'intento di questo video. È nata per questo motivo, che in vari lesplay ho visto che tutti i giocatori iniziavano attaccando con l'armata secondaria Tobaro. Però una delle cose su cui io mi focalizzo spesso a inizio campagna è cercare di capitalizzare al massimo i punti esperienza di tutte le mie truppe. Quindi cercare di combattere le battaglie con entrambi i miei lord, in modo che entrambi prendano esperienza. Ovviamente chi fa rinforzo ne prende sempre un po' di meno rispetto a chi fa la battaglia in prima linea. Oltre a questa esigenza, la mia esigenza era quella di liberarmi di Lupio Scrutasole e soprattutto di Magritta prima che si fortificasse troppo. Per fare ciò ho avuto questa intuizione di provare questa tattica, cioè Kazrak si imbosca e invece Gorosh si fa vedere qua a gironzolare, anzi a pascolare, vista la natura della razza, della fazione, a pascolare indisturbato e qui è la tira dell'attenzione del nostro Lupio, che sicuramente avendo un'armata più forte andrà ad attaccarlo. Questa tattica va usata ogni qualvolta il nemico va attirato in situazioni in cui non vorrebbe trovarsi. Che ne so, quando magari c'è un full stack, anche a livello del gioco avanzato, c'è un full stack bello cazzuto, però dietro una guarnigione bella cazzuta è un assedio, comporterebbe o trope perdite che in quel momento non potete permettervi, oppure troppo tempo per le macchine d'assedio, allora a quel punto questa tattica diventa molto più semplice perché si combatterà lo stack fuori dalle mura e poi ci sarà solo la guarnigione da dover annientare. Questa tattica funziona benissimo, benissimo, molto spesso, anche quando ci sono multi stack che non potete attaccarli perché si rinforzerebbero se non avete attacco full minio, diciamo. In questo modo potrebbero venire uno alla volta e riuscireste comunque a farli fuori. Anche se poi là entriamo già in una dinamica che è della classica imboscata. Imboscata che invito tutti a rivalutare perché cambia veramente le sorti di una campagna nel mondo di giocare, è fondamentale. Comunque veniamo a noi, abbiamo messo il nostro kazzrak qua in imboscata, in campagna bisogna anche reclutare, ricordatevelo. E' il nostro Gorosh qua a spasso. Allora che succede? Se voi lo schierate qua al bordo, ovviamente la tattica funziona solo se l'imboscata riesce. Se voi lo posizionate qua al bordo, il nemico potrebbe attaccarvi senza passare per l'area di imboscata di kazzrak. Quindi succede che la battaglia sarà del nemico contro Gorosh, contro l'armata secondaria, e kazzrak di rinforzo. Se invece voi mettete il vostro Gorosh un po' più all'interno, il nemico sarà costretto ad entrare dentro l'area di imboscata, e quindi la battaglia dovrebbe essere l'imboscata di kazzrak con il rinforzo di Gorosh preno a cuore. Adesso, io la tattica ve l'ho spiegata, le possibilità sono al 70%, e se non dovesse riuscire l'imboscata, la tattica è sempre questa, e vi assicuro che funziona. Però, vediamo un po' che succede. Oh, l'imboscata riesce. Sicuramente in questo caso l'imboscata forse non è riuscita, che succede? Non riesco a capire bene cosa sia successo, comunque... Ma, ragazzi, è una situazione un po' strana, che non ricordo mi sia mai capitata, perché la battaglia è comunque contro Gorosh, forse il nostro lupio ha deciso di attaccare comunque... Ma è molto strana questa cosa, perché... Essendo in svantaggio non dovrebbe attaccare comunque... Per la dinamica di quello che è successo, diciamo che lupio ha visto l'imboscata e ha deciso comunque di attaccare Gorosh. Ripeto, è molto strano, perché essendo in svantaggio è una cosa che non dovrebbe fare. In ogni caso, a noi va benissimo lo stesso, perché se dovessimo giocarla, questa battaglia noi la vinceremmo molto agevolmente, e ci potremo dedicare il turno dopo alla conquista di Magritte. Questo io non lo farò ora come ora, non sono in leggendaria, mi sono messo in VH. Io questo non lo farò, perché l'idea era solo far vedere questa tattica che serve appunto a stanare i nemici rinchiusi dietro le mura. Allora, spero che la prima pillola, la pillola di informazione, la pillola di tattica, vi sia piaciuta, pillola ma una supposta per lupio, più che una pillola, vi sia piaciuta. Io ragazzi non ho l'oratoria del nostro buon Arcadius, però spero comunque di poter fornire qualche nuovo contenuto alla comunità, perché in fondo si tratta solo di condividere la stessa passione e anche le stesse esperienze. Comunque, ci salutiamo qua e ci vediamo magari con uno start di una delle nuove fazioni. Vi risaluto dal Mastromodaio, arrivederci. Grazie.